Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Il 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata, per lavori tra Scarlino, Scalo e Riotorto, in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis, Tiberina, fino alle 18, tratto chiuso per lavori tra Canili e Vergherito, in direzione Ravenna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!